Cerimonia in piazza Cavuracomo in occasione del 71esimo anniversario della Repubblica. L'appuntamento in città, venerdì 2 giugno, è fissata per le ore 10 ed è organizzato dalla Prefettura, di intesa con il Comune. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Il programma della manifestazione prevede l'alza bandiera, la consegna della Costituzione ai giovani comaschi che compiono 18 anni nel 2017, la premiazione del concorso a premi per il 70esimo anniversario del voto alle donne e il conferimento delle onorificenze degli attestati da parte della Prefettura. Interverranno la fanfara dei bersaglieri di Como e il corpo musicale di Rebbio e saranno schierati bandiere e labari delle associazioni combattentistiche ed arma e i gonfaloni dei numerosi comuni che prenderanno parte alla manifestazione. In concomitanza è prevista anche l'esposizione mezzi dei corpi militari e civili di Como e anche di una Jeep, una Harley e una Parabike della Seconda Guerra Mondiale. In serata alle 18 seguirà la cerimonia della Maina Bandiera in piazza Cavur. Quest'anno le celebrazioni saranno chiuse dal concerto gratuito del coro Nigritella di Monte Olimpino, diretto dal maestro Antonio Camporini alle 21 in Biblioteca Comunale. Per quanto riguarda la viabilità durante la cerimonia, è vietato il transito e la sosta tra via Bianchi Giovini e via Fontana. I bus transiteranno sul lungolario.